La macelleria di Epifanio della Meloni Carni in via Palestro 65 a Calasetta offre alla sua clientela carni di prima qualità. La macelleria di Epifanio da anni opera nel settore del commercio trasformazioni di carni di qualità, genuine, sicure e certificate. Macelleria e gastronomia, tutto di produzione. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà. Sull'isola di Sant'Antiope. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà. La lunga esperienza consente alla Vol disputa. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà. La lunga esperienza consente alla Strada BRCM. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.